L'economia dell'Abruzzo nel primo semestre del 2024, sebbene veda l'attività produttiva al rallentamento rispetto all'anno precedente, è moderatamente cresciuta dello 0,3%. A fare il punto il direttore della filiale Aquilana di Banca d'Italia, Giuseppe Ortolani. Ci sono alcuni settori che vanno meglio e alcuni che vanno peggio, come l'Indus e l'Automotive, che è un po' in difficoltà. L'economia dell'Abruzzo mostra una crescita moderata in un contesto di persistenti tensioni geopolitiche e una stagnazione sostanziale dell'area dell'euro. La crescita è stata dello 0,3% in regione, che si confronta con un 0,4% dell'Italia nel suo complesso, quindi siamo più o meno in linea. A fronte di questo dato si evidenziano però situazioni differenziate, l'industria segna un po' il passo, l'Automotive in particolare ha mostrato qualche difficoltà. Tuttavia l'export regionale è in aumento del 2,1% contro una diminuzione dell'1,1% a livello nazionale. Sono andati particolarmente bene il tessile e il farmaceutico in termini di vendita all'estero. Per quanto riguarda invece i consumi hanno sostanzialmente stagnato, pur in un quadro di recupero del potere di acquisto delle famiglie. Il turismo è andato molto bene, in particolare la componente estera.